qualche problema con la post produzione delle tue foto? nei tutorial che trovi in giro ti mostrano il fotoritocco su immagini di solito quasi perfette ma cosa succede quando passi al ritocco di foto normali? in questa serie di tutorial ti mostro la post produzione fotografica proprio su quelle fotografie che ti mettono in difficoltà mandami le tue foto e io le ritocco oggi ci occupiamo della post produzione della fotografia sportiva di gabriele gabriele ci dice poco o nulla su questa immagine se non il fatto che lui scatta foto sportive ed ha bisogno di qualche consiglio di post produzione io che non sono certo un esperto di fotografia sportiva mi permetto di dargli anche qualche consiglio di ripresa immagino che questa inquadratura sia così un pochino esageratamente sbilanciata perché è stato sorpreso da quello che stava succedendo ma se così non fosse diciamo che questa immagine avrebbe avuto molto più senso con la macchina magari parecchio più vicina e posizionata presso a poco da questa parte in maniera tale da dargli lo spazio davanti per rendere la composizione sufficientemente bilanciata altra cosa che noto è il fatto che l'immagine è scattata da un diaframma inutilmente troppo chiuso perché vuoi la distanza vuoi il fatto comunque che avere una profondità di campo ridotta ci aiuterebbe a migliorare l'isolamento del soggetto nei limiti del possibile avrei scattato con un diaframma di parecchio più aperto poi questo avrebbe anche consentito di abbassare un pochino gli iso rendere il tempo di scatto un po più veloce un 5 centesimo va bene ma ti faccio vedere con l'immagine al cento per cento che insomma una qualche incertezza nella nitidezza ce l'abbiamo vediamo dunque come trarre il massimo da questa immagine prima però voglio ringraziare lo sponsor di questo video che come sai sono io stesso dunque metti un bel like a questo video iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto ma soprattutto schiaccia la campanella e attiva tutte le notifiche in modo da non perdere i prossimi video dai anche uno sguardo al mio negozio su amazon ci sono tanti articoli tutti commentati che ho provato personalmente può acquistare tranquillo evitando delusioni se devi comprare anche qualunque altra cosa su amazon puoi aiutarmi utilizzando il link ad amazon che trovi nella descrizione qui sotto a te non costa neanche un centesimo in più e darai appunto una mano al mio canale a continuare a realizzare contenuti gratuiti proprio come quello che stai guardando gabriele come ti ho detto non ci dà alcuna informazione sui software che utilizza io ho scelto luminarai semplicemente perché è un software nuovo e credo che valga la pena approfondirlo non utilizzeremo le funzioni a intelligenza artificiale di luminar o almeno lo faremo il meno possibile non utilizzeremo neanche i modelli faremo tutto a mano e questo soprattutto per sfatare il mito che luminar è un editor che fa tutto da solo la prima cosa che ho fatto è quella di prendere questa immagine verticale e questo perché ritengo che possa aiutarci a dare un senso in qualche modo a questa composizione che ti ripeto io condivido in maniera estremamente limitata direi quasi per niente ma questo poi diventa anche ovviamente un questione di gusti ma trovo che l'immagine già solo in questa maniera qui funzioni parecchio meglio possiamo eventualmente impostare un rapporto d'aspetto libero tra i lati per creare una composizione se vuoi anche più efficace vedi perché teniamo in campo un pochino di più di questa scia che in effetti ci fa comodo e tutto sommato può funzionare questa roccia potrebbe piacerci come non piacerci e potremmo fare questa cosa qui ma io preferisco questo che ci aiuta appunto a mantenere il polverone intorno alla macchina ora occupiamoci delle regolazioni dei toni e quello che vorrei fare è creare un pochino di contrasto in questa immagine ma non del semplice contrasto vedi basterebbe fare così io questo lo farei ma molto di meno quello che vorrei fare è abbassare un scusami alzare un capello le luci per evidenziare questa scia bianca e al contempo scurire un po le ombre per far risaltare l'automobile altra cosa che possiamo fare è intervenire leggermente sul colore forse vedi per incrementare un capello la vividezza e anche se ti avevo detto che non volevo utilizzare l'intelligenza artificiale dimostro quello che farebbe a mio avviso è il contrario di quello che serve a questa immagine invece quello che può funzionare scurire banalmente un po il cielo in questo modo avremo dovuto farlo in mille altre maniere e se vuoi te ne mostro subito una che è di nuovo dal colore ci spostiamo sulla hsl sulla luminosità abbassiamo un capello i blu e i ciano sempre da qui possiamo di nuovo intervenire sulla saturazione sia dei blu che soprattutto diciamo l'effetto all'incirca lo stesso ho toccato quattro cursori e due menu anziché un singolo slider certe volte vale la pena approfittare dell'intelligenza artificiale di luminar ai ora il problema principale che io riscontro è quello di evidenziare in qualche modo questa automobile e la prima cosa che mi verrebbe da fare è quella di utilizzare la struttura che anche se si chiama ai bisogno del nostro aiuto ma al contrario di quello che pensi ovvero di abbassarla in maniera significativa e adesso ti faccio vedere per quale motivo farei questa cosa guarda le foglie mettiamola proprio al minimo così è senza e così è con così è un pochino troppo ma possiamo fare questa cosa ora la macchina però l'abbiamo rovinata quello che dobbiamo fare è prendere la nostra maschera utilizziamo la maschera pittura e abbiamo bisogno di questo effetto che abbiamo utilizzato dappertutto tranne sulla macchina per cui prendiamo la maschera con la gomma io prenderei un pennello un po più grande di quello che ho e farei questa cosa qua in cui togliamo completamente l'effetto dall'automobile ecco fatto torniamo con l'immagine a tutto schermo e vedi che la cosa inizia già a funzionare abbiamo anzi forse esagerato possiamo fare una cosa di questo genere qui ti faccio vedere senza l'effetto e con l'effetto vedi che l'automobile inizia a risaltare se vogliamo enfatizzare ulteriormente questo tipo di effetto possiamo ingrandiamo di nuovo la macchina a spostarci sui dettagli e lavorare sui dettagli medi incrementandone la nitidezza vedi che la macchina sta migliorando in maniera significativa abbiamo secondo me esagerato ti faccio vedere così è senza così è con abbiamo questo effetto di nitidezza maggiore ma in questo caso vogliamo applicare questo effetto soltanto all'automobile la maschera ce l'abbiamo già fatta qua sulla struttura per cui non farò nient'altro che copiarmi questa maschera spostarmi sui dettagli andare alla maschera e incollarmi la maschera è chiaro che la maschera è esattamente il contrario di quello di cui avrei bisogno per cui la invertirò ed ecco qui abbiamo completato il nostro lavoro questa è l'immagine senza l'effetto e questa è con l'effetto vedi che c'è un incremento di nitidezza sull'immagine ti mostro l'originale è il risultato che abbiamo ottenuto fino a questo momento il passo successivo potrebbe essere quello di lavorare con un pochino di dodge n bar nello specifico con una forza decisamente più bassa prima di tutto vorrei scurire l'area qui sotto perché così chiara a mio avviso non ha alcun senso di esistere e possiamo anche lavorare nello scurire tutta questa parte dove non c'è il polverone possiamo scurire questo albero che già è scuro in generale col dodge n barn funziona molto bene l'idea di scurire ciò che è scuro e schiarire ciò che è già chiaro facendolo ecco insomma cercando di aiutarsi con quello che già è l'immagine vedi che qua ho sbagliato per cui possiamo cancellare questo effetto dal cielo che fa assolutamente il disastro tornare al nostro più scuro e fare maggiore attenzione e una scuritina anche a questo la darei volendo anche a questo e acquisto pure quest'albero qua non ha nessun motivo di essere così chiaro possiamo scurirlo e alla stessa maniera possiamo schiarire la nostra scia bianca ti faccio vedere senza il dodge n barn con il dodge n barn ti rendi conto che abbiamo iniziato a mettere a posto questa immagine l'immagine è diventata dritta a dei toni tutto sommato coerenti con quella che poteva essere la ripresa e l'automobile inizia ad uscire dall'immagine in maniera prepotente come soggetto nonostante sia piccolina in un lato del fotogramma ma questo io giunti a questo punto non lo considererei un errore di composizione è chiaro che non rispetta nessuna di quelle che possono essere le regole classiche ma a mio avviso questa composizione così inizia a funzionare ed è bilanciata l'ultima cosa che possiamo fare è intervenire su un'altra cosa che è l'armonia dei colori e lo faccio solamente per mostrarti una cosa che a me piace tantissimo ed è il contrasto colore lo portiamo al massimo giusto per farti vedere cosa fa e vedi che crea un contrasto fortissimo perché l'abbiamo messo al massimo sulle cose che sono del colore che andiamo a selezionare ora io perché sto facendo questo perché vedi che facendo così io posso con questo cursore creare un bel contrasto sull'automobile che al contempo mi scurisce tutto il resto che è una cosa che mi fa tutt'altro che dispiacere e di conseguenza la sfrutterei ti faccio vedere senza e con possiamo anche diminuirlo leggermente di nuovo senza e con a me così non dispiace questa è l'immagine originale e questo è il risultato che abbiamo ottenuto l'ultima cosa che possiamo fare è giusto per non farci mancare nulla anche perché che era l'ultima cosa te l'avevo già detto aggiungere un gradiente basic per fare una cosa di questo genere qui ovvero scurire un po la parte alta dell'immagine io toglierei anche un capello di saturazione e per non perdere contrasto abbasserei le ombre sì perché aggiungere troppo contrasto ci crea difficoltà questa è l'immagine originale e questa la post produzione che abbiamo realizzato te la mostro anche al cento per cento e vedi che la nostra auto inizia a funzionare ti faccio vedere che originariamente l'immagine era questa direi che abbiamo fatto una discreta differenza l'immagine non l'abbiamo stravolta ma inizia a funzionare piuttosto bene se ti piace illumina rai sappi che ho realizzato tanti altri video su questo software che ti linko nella descrizione qui sotto e nella card sopra la testa ma anche un corso completo per principianti su udemy il prezzo lo decide udemy vedi in questo momento sarebbe a 12 e 99 ma non è raro trovarlo a prezzi anche inferiori nella realtà io di corsi realizzati diversi altri e li trovi tutti qua a questa pagina appunto di udemy ti linko questi corsi nella descrizione qui sotto se invece vuoi partecipare a questa iniziativa mandarmi le foto in modo che io possa realizzare la post produzione devi andare alla pagina che di nuovo trovi linkato nella descrizione qui sotto leggere accuratamente le istruzioni compilare il form selezionare questa casella che di default è deselezionata e schiacciare il pulsante voglio partecipare ti arriverà una mail con tutte le istruzioni tieni presente che darò priorità a quelle immagini che mi arriveranno corredate da un video nel quale mi racconti i problemi le difficoltà che ha incontrato nella post produzione è anche una buona idea a seguirmi su instagram perché almeno tre volte a settimana pubblico una foto e ti racconto la storia che ha portato a realizzazione di quello scatto mi trovi come video zappo così come su tutti gli altri social se ti interessa la post produzione tieni presente che questo è solo uno dei tanti episodi che ho realizzato su questo argomento ti linko l'intera playlist qui accanto non tenere tutte queste informazioni per te condividi il video intanto grazie per aver guardato questo episodio ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video video Grazie.